Ciao a tutti! Ciao! Questa è una nuova attività del canale come vi avevo promesso, beauty dalla testa ai piedi. Oggi intervistiamo my sister Cinzia e età Cinzia, scusa. Vado quasi 45, quindi sono la sorella più grande. Adesso vi facciamo qualche domanda, vediamo che prodotti utilizza, così la gente, più siamo, più facciamo recensioni e più uno compra i meglio prodotti, i top, come dice Sara. Allora, primo prodotto, partiamo quindi dalla testa. Ok. Allora, che usi dentro la capoccia? Allora, diciamo prima Cristina che io ho la pelle molto secca e purtroppo ultimamente anche con la dermatite è abbastanza seria, per cui ho dovuto cambiare dei prodotti. Quindi ci sono più di un prodotto per ogni cosa perché devo alternare per forza. Tutti i bio tu usi? Sì, purtroppo no, proprio per la dermatite ho dovuto usare cose non bio. Vabbè, magari lo diciamo. E lo diciamo. Partiamo quindi dallo shampoo. Sì. Allora, lo shampoo, questo è un ultimo acquisto, è uno, e questo è bio, uno degli ultimi shampoo, che è della linea di Alchemilla. Che conosceranno quasi tutti perché... Questo è fantastico, lo provo, l'ho provato già da due settimane, shampoo volumizzante, profumo buono perché Alchemilla è ottima, ci piace un bel ton, vedi se senti qualcosa. E questo è buono perché io lo diluisco leggermente, da qua si apre, purtroppo ho già rotto il tappo, però l'effetto volumizzante questo lo dà e soprattutto non mi prude la testa perché purtroppo chi ha la dermatite sa... Ah, sì, sì, ok. Sì, chi ha la dermatite sa che purtroppo spesso c'è a plurito e questo per adesso, super promosso, è biologico e quindi sono molto contenta che sarà. Ok, bene. Poi invece dopo lo shampoo, io alterno, una volta uso questo perché lo lavavo ogni tre giorni capito, una volta questo qui. Questo che ho visto che sul web è un po' di sì e un po' di no, alcuni lo bocciano, molti lo bocciano anzi, molti no. Purtroppo, anche se senza se li vuole fare bene, diciamo che lo boccio pure io. Ecco, bene. Però proprio la botte di cazzo a Garnier, vabbè. Scusate Garnier, noi vi stimiamo tanto, però questo è... Per me non... Poi mi lascia i capelli un po' sporchi, però non mi li nutre, mi rimangono molto... Mi leva l'effetto volumizzante dello shampoo, quindi non lo ricompro. Lo sto usando ma non lo ricompro. Questa invece mi sta dando tante soddisfazioni. Questa è sempre spesso promossa. Questa anche biologica, che la sto usando, questa invece quasi da un mese e mezzo anche di più, ma dura tanto, ne metto pochissime io. E questa invece devo dire che la promuo, ci piace. Ok, poi passiamo a questo punto, sempre i capelli finiti, abbiamo finito, no? Io poi purtroppo non posso usare nulla, per cui non uso niente. Quindi passiamo al viso. Tragedia. Allora, sul viso io ho provato... Che è diventato molto scuro, non lo so. Scure? Vabbè, si vedono meglio poco così, si vede meglio dal viso. Allora, io di latti uso quasi sempre il latte. Ho provato l'acqua micellari e latti di tutti i divi, ma torno sempre a questo, che secondo me è il miglior latte detergente che esiste. Non so se si vede bene, perché abbiamo perso la luminosità, esatto. Ok. E questo è il latte detergente della pura vita bio. Allora, in realtà mi sembra che sono 250 ml, ce ne vuole veramente pochissimo, quindi dura tanto, costa 19 euro, non si trovano mai sconti su questo. Biologico? Ancè molto biologico, creato in collaborazione con Alciniro. Lo vedete ridotto così, perché io per usare tutti i prodotti li distruggo. Beh, ogni volta che cambio io torno qua. Quello che costa. Eh, però dura tantissimo, dura il doppio degli altri. Questo non solo è un latte, c'è scritto anche che lo puoi usare come maschera lasciandolo sul viso di più. Ce ne vuole una briciola e secondo me uguale a questo non ce n'è. Purtroppo però sconti su questo io non nemmeno trovato e non è neanche facilissimo trovarlo. Io lo prendo sempre su Mondovert o su Mondovert o su Farmacia Egea, che è una farmacia di Roma. Beh. Ah, questo è l'uovo acquisto. Questo è l'uovo acquisto. Su un sito nuvole blu, che è un fratello spettacolare. Che ci è piaciuto tanto, che è la marca Pulp de Vie. Pulp de Vie. Questo è un po' acqua dopo la detersione e loro lo chiamano anche siero. Effettivamente dà un sacco di effetti idratanti sulla vita. Lo comprerò. E il profumo è spaziale, è un po'... Vabbè, questo è biologico. Vabbè, sul sito nuvole blu lo trovate. Sì. È francese, logicamente. Sì. Ui, oui, è della France. Della France. L'unico difetto, lo dico, ma poi lo scriverò anche sul sito, è che purtroppo ho dovuto cambiare il tappo. E ho letto che molti l'hanno dovuto fare perché il prodotto perde. Quindi scriverò anche al nuvole blu di chiedere alla ditta di correggere questa cosa. Perché io mantengo quasi sempre i barattoli, quindi l'ho sostituito. Però altrimenti, infatti così non perde, altrimenti ve lo perdete in borsa. Bene, è fantastico. Così si tonifica. Esatto. Poi dopo, 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 mi sono persa una crema viso. Dopo la vado a prendere, Cristina, non la vedo. Ok. Che è la crema viso, che vi faccio vedere perché è quella che compriamo al negozio, credo che online non si trova. Aspetta, andiamo a prendere questa crema viso. Ecco, sono tornata. È recuperata la crema? Allora, la crema viso che ho finito è questa. Allora, questa è una marca che online, non credo che ci sia, non l'abbiamo comprata a un negozio, ed è un'officina Umbra, crema effetto lifting ai peptidi vegetali. Anche questa è una crema bio, certificata, facciamo vedere qua. Questa sembra una crema molto leggera, invece io che ho una pelle secca mi ci sono trovata benissimo e sicuramente la ricompro. Costa 30-35 euro, un anno in circa. Vabbè, però non ce le vuole poco, ce le vuole poco. Ha una certa, purtroppo non, devo fare così. E questa è la crema. Poi, per farvi vedere, ho messo anche le maschere. Anche le maschere io alterno, perché dopo un po' la mia pelle è una disgrazia, purtroppo. Allora, io alterno queste, che sono anche milla, che costano, mi sembra, 2,20 euro, 2,30 euro. Io ci faccio 3-4 volte la maschera. Una è quella perli sensibili, l'altra è quella antico. Non ci paga Alchemilla, perché io l'hanno meno spesso. E ci piace, Alchemilla è una delle marche bio, secondo me, che ha una resa almeno sulla mia pelle, poi per carità. E poi questa, che invece ho preso da Natura Si. Fitorelax, bio Fitorelax. Fitorelax, questa c'è un po' di argilla dentro. Si mette una crema maschera visio, iteratante, antistress. La linea biologica, Fitorelax, che io ancora non l'ho trovato, invece, vicino. Costa tipo 6 euro, sotto i 7 euro. È un flacone, per cui dura anche abbastanza. Eccolo qua. Ok, tanto me li scrivo. Ve li scrivo tutti i prodotti. Promossa. Sì, siamo ritornati. Promossa. Ok. E qui col viso e capelli abbiamo finito. Poi? Al corpo passiamo. Passiamo al corpo. Al corpo. Allora, anche al corpo. Ma questo non è contornocchi, scusa. Ah, scusa. Allora, contornocchi, purtroppo, dicevo prima che sono un sorgetto allergico, quindi ho dovuto usare un prodotto non bio, ma è l'unico che purtroppo mi fa vivere, che è la SVR, è una marca da farmacia, Topia Lise Palpebral, che mi ha dato la mia dermatologa. E purtroppo, diciamo questo sul bio, io al momento non posso tornare perché altrimenti vado in giro con degli occhi confi quanto due palle. Ok. Poi questi? Poi questi, che sono i burri, allora, al momento stavo provando, perché me l'hanno regalato, Yves Rocher, che è il burro al cocco. Però, allora, a parte che si è rotto quasi subito, sono riuscita a ripararlo, ma si è rotto subito il contenitore, è molto unto, però sinceramente non lo ricompro, non mi è piaciuto e quindi ritorniamo di nuovo agli addolci labbra. che io volete riprovi tutti i gusti. E questo è sempre alchemilla, questa è mela verde, ma alchemilla ha 3.000 gusti di questi, per cui io, diciamo, mi volta cambio, perché mi piacciono proprio. Mela verde è buona. E poi, per il viso abbiamo finito. Allora, il viso ho solo portato questi due, io... parliamo per il make-up un prodotto che ti ha schifato oppure ti è piaciuto tantalmente tanto che ti viene in mente nel periodo, qui parliamo sempre del periodo, perché poi i prodotti cambiano. Allora, il make-up in realtà io sono alla ricerca di un fondotinta disperatamente biologico, perché non vorrei passare... Quindi consigliateli qua sotto... Consigliate, io sono disperata, ho provato già tantissime marche. L'ultimo ho comprato sono questi, addirittura due ne ho comprati, della Neve Cosmetics. Avendo la pelle secca io non posso usare quelli in polvere. Questi ho preso due colori, light warm e light neutral. Allora, diciamo che il warm è inquietante, sul mio viso è inquietante. L'altro lo sto usando, è quello che adesso, ma... Effetto Claudio Baglioni, effetto Claudio Baglioni. Povero Claudio Baglioni. Però non mi sono piaciuto nessuno dei due, perché in realtà, a parte che non mi coprono, poi non me li sento comodi sulla pelle, un po' mi appiccicano, mi dispiace perché mi piace. Neve, sono strani, non lo so, un po' appiccicosi. E poi non mi fanno un bel colorito, che insomma, io sono un po' gialloni, io la diciamolo pure. Però mi dispiace perché a me piace Neve, quindi un po' sono rimasta, aspettavo tanto che facesse questi in crema, però purtroppo sono ancora alla ricerca. Quindi questi li userò perché non butto mai niente, però insomma, vabbè. Vabbè, poi passiamo all'ultima parte. Al bagno, vabbè, per il corpo. Allora, per il corpo, anche, sempre per il problema, vi diceva, del matite che mi rovina la vita. Allora, al momento sto usando questi due. Va un po' aggiornate. Sono tutte e due bio. Allora, uno, diciamo, di qualità e prezzi diversi, perché uno è Omnia, termobagno biologico. Che questo è proprio super promosso su YouTube. E devo dire che problemi non me ne dà, già che, diciamo, riesco a non avere pruriti e cose strane, già va bene. E questo, che invece l'ho comprato, che io amo molto, B.O.B., in realtà lo spesso uso anche la parte su Intima e B.O.B. Che è un olio crema. E B.O.B. è una molto attenta, ci piace. Quindi sono tutte e due biologici, però, insomma, due cose diverse. Poi, deodorante, che sto usando questo, Divi Verde Coop, Divi Verde anche usiamo un po' di prodotti, è certificato, anche questo, tra l'altro mi dura tantissimo, però mi ci trovo bene anche questo qua. Profumo delicato. Profumo delicato, è biologico ed è quello che si compra alla Coop, semplicemente. Oh, allora, semplici esempi. Di creme, invece, per il corpo, io ho dovuto abbandonare momentaneamente la nozzitta, non leggere niente, perché io non... Acrillates! Purtroppo, quando, diciamo, ho avuto una sindrome forte di dermatite, per cui sono dovuta passare a questa, che al momento sono costretta a usare. Non è biologica, non è naturale, però, per chi soffre, forse, se c'è tra di voi qualcuno che ha... Una dermatite forte la conosce, perché è abbastanza nota, che è l'acetafil Restoraderm, fluido ultra idratante, pelli secche e molto secche, che è proprio per chi ha questi tipi di problemi. Adesso sto, diciamo, al prossimo mese vorrei provare a... Non è biologico, ma tanto è meglio. Purtroppo no. Cioè, almeno la filosofia nostra è che alterniamo, per non far abituare il corpo, quindi che si cambia sempre prodotto, bio, non bio. Diciamo che non ho avuto scelta. Sesso sui piedi, perché me l'ha regalata Cristinella, che è la crema per i piedi, della, io non vi ricordo mai come si chiama, della Sabon, che è sempre i negozi... Vai, vende anche online le Sabon? Non so se li vende online, a Roma, vi posso dire Roma, che sta dentro Stazione Termini, il corner, poi c'è il negozio all'Eur, lo store, a... Do siamo andati noi? È vicino italiano, alla colla di Rienzo. E poi ci sono altri corner dentro i centri commerciali, quindi di solito dentro le coin. Allora, questa è... Non sono economici, quello no. È una ditta israeliana. Sì, allora, non è biologica neanche questa. Non è biologica. Non è biologica. Questa è una crema per i piedi ed è... Io mi ci sto trovando bene perché sembra molto liquida, leggerina, e invece idrata al giusto, non unge tanto perché poi, insomma, si chiede i tavoladucci, altrimenti rischiate. Sì. La settimana di cascare, più che altro. Fresca. Fresca e per me, al momento, questa mi sta piacendo. Bene. Adesso passiamo al momento più bello perché il suo profumo... Al momento è il mio profumo. Prego. Allora, questo è il papavero dell'erbolario. Io vi direi, leggo le note così lo scopre pure lei che noto, eh? Esatto. Lei non è il tipo che ha treciotto profumi? No, io ne uso pochi purtroppo neanche sulla pelle. Io li uso sui vestiti sempre per il problema della mia maledetta pelle, quindi ve li metto sui vestiti. Quindi non ho ripreso da lei questo. Esatto. Però da papà, mio padre che ci si fa il pane. Esatto. Questo è di questo momento, per me questo, non so se poi Cristina lo conferma perché lei è l'esperta dei profumi, è invernale, quindi tra poco questo sicuramente io lo sostituisco perché lo sento più invernale. Come il profumo. Sì. Allora, quindi, noti di testa, polpa e... polpa di pesca, polpa di mandarino, rosso e prunella che abbiamo scoperto che è un fiore. Un cuore di petali di rosa, davana delle indie, che sarebbe un'erba, mughetto, ilang-ilang, lilla, nero, legge, il somino d'acqua e petali di papavero. Un fondo di legno di sandalo, muschi, ambra, vaniglie e pacioli. Che sono quelle che si sentono di più? Testato su sette vitali, non testato su animali e cento per cento made in Italia, vabbè, l'erbolario, che solito gli fa... È molto, io lo sento molto talcato, probabilmente le note ultime che tu hai detto, è l'ambra e la vaniglia. Muschi, vabbè, la vaniglia pure si sente dolce, buono. Si sente un po' brodolcato, un po' vaniglia, poi a seconda della pelle... Lui mi ricorda un po' il profondaggio. A lei sta bene, rimane dolce, si sente la vaniglia... Si, non so, ricorda, bo... Mi ricorda pure sotto Natale... Ipnose? No. Qualcosa? Ipnose no, forse è un incrocio tra più profumi. Si, no, ipnose no. Vabbè. Va bene, ragazzi, questo era il video, se avete domande da fare, vi risponderò io oppure Cizza, visto che lei ha comunque un account su YouTube, quindi potrebbe rispondere. Esatto. Se non lo vede, gli manderò io su WhatsApp, esatto, che voi gli fate. E niente, se avete dei fondotinta da consigliare, io qualcuno glielo ho consigliato, se avete anche voi, dei fondotinta... Si, anche perché molti l'ho già provati, per cui... Infatti, gli avevo detto pure, magari, dell'erborario che fa delle creme profumate, leggere, che coprono. Anche se, per esempio, ve l'occhiaio ancora ne ho trovato una cosa che copre. Il chirurgo. Sarà la mia strada del futuro, vabbè, mi ritrovate con due vaso e un canotto, vabbè. Va bene, ok? Allora, ciao a tutti, vi scrivo sotto tutti i prodotti che abbiamo nominato, ok? Ciao a tutti! Ciao! Ciao!